Musica Ciao a tutti ragazzi da Corrazzonto 9 Benvenuti sul mio canale per questo neovissimo video Oggi è giovedì e siamo con un'apertura ragazzi sul canale di Corrazzonto 9 Oggi ragazzi come vi ho già anticipato volevo cominciare a fare un po' di cose di nero e bianco Dato che apriremo un po' più avanti O forse addirittura ragazzi avete scoperto un po' delle cose che vi sto anticipando del canale community Quindi magari farò qualcosina anche là di speciale per appunto le bustine qui online Però oggi ragazzi volevo fare qualcosa di nero e bianco Cominciamo allora con Boundless Crossed ovvero con fili barcate Apriamo Troviamo una nuova e brilla Quindi è Olo È Olo ragazzi Prima bustina e prima Olo Bellissima Ember Bellissimo Ok Prembo un'altra Quindi sono già due bustine ragazzi Non so cosa vuol dire che abbia il lucchetto Non so Fatemelo sapere ragazzi cosa vuol dire il lucchetto Fatemelo sapere quella roba lì Nuovo questo Keldio È Olo È Olo Due Olo ragazzi in due pacchetti Grandissimo Quindi l'altro ragazzi che volevo fare appunto 5 pacchetti Ah scuolate 10 pacchetti ragazzi come facciamo di solito Abbiamo già aperto due pacchetti di cofini barcati Apriamo due pacchetti di destini futuri E troviamo un bellissimo Wikituff E un Among Us raro diverso Quindi sta andando benissimo questo bustino ragazzi Altra bustina di destini futuri Troviamo un cento Oh mio Dio Oh mio Dio Principe giallo Ho vinto il concorso Questa era una delle tue bustine Ho vinto il concorso So che sto registrando questo video Ancora qualche giorno prima che lo pubblichi Anzi probabilmente anche una settimana prima ragazzi Perché sto registrando questo Bisogna una settimana prima di quando lo pubblicherò Probabilmente Ma ragazzi Shandalur Shiny C'è giù su 99 ragazzi Sono contentissimo C'è una cosa pazzesca Non serve uno screenshot Quindi te lo faccio vedere così Lucario forse addirittura Olo reverse Ragazzi delle bustine splendide Ma splendide Ma splendide E' una parte 4 finora E direi sapete cosa? Così quasi ma però Solo 5 Esattamente ragazzi Scusatemi per questo Cambiamento in ultima ora Ma ragazzi Una shiny e basta Cioè va bene così Shiny Due oro Un oro reverse Una reverse Basta L'ultima bustina Quindi faremo di questa qui Di Una dana plasma E troviamo uno semplice Mind Quindi ragazzi Concludiamo molto tranquillamente Per fortuna Quindi aspetto il premio E dai scherzo Per questa roba Quindi un saluto Tanto al principe giallo Intanto vi chiedo di iscrivervi Perché è un grande E vi do appunto Il suo video Un saluto a tutti ragazzi Un bel mi piace Iscrivetevi e commentate Al prossimo video Ciao 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 ciao